Il gatto deve mangiare solo alimenti secchi o anche umidi. Chiunque viva con un gatto si è trovato a risolvere il dilemma tra crocchette e scatolette, tra gusti e capricci del micio di casa. La scelta giusta? Quella che torna alle origini del gatto e sa soddisfarne le reali esigenze nutrizionali. Sapevate che il gatto non ha l'istinto a bere? Le sue origini deserti che gli hanno imposto di risparmiare quanti più liquidi possibile per sopravvivere, concentrando addirittura le urine per minimizzarne la perdita. Per mantenersi idrettato infatti al gatto bastavano le prede che cacciava, che erano costituite dal 70-80% di acqua. E l'evoluzione non lo ha portato lontano dal suo passato di cacciatore. Se guardiamo un gattino di qualche settimana, ci rendiamo immediatamente conto che l'acqua per lui rappresenta esclusivamente un gioco. È la mamma a insegnargli a esserne attratto anche per berla. Ecco perché una dieta a base di sole e crocchette, che contengono soltanto il 10% di acqua, non solo non è adatta per il nostro micio, ma può addirittura contribuire allo sviluppo di problemi alle urinarie o alla formazione di calcoli. È importante che fin da cuccioli imparino a mangiare sia l'umido sia il secco, almeno in pari quantità. Il micino imparerà così a gustare consistenze e sapori diversi, mantenendo questa sana abitudine per tutta la vita. Per modificare le abitudini di un gatto adulto, occorrerà avere un po' di pazienza, aggiungendo a poco a poco anche l'umido nella sua alimentazione quotidiana.